Il consigliere di Stato, il turismo dottore del spettacolo che ha nominato prima, una grandissima festa, una battuta al buono. Una festa che si ripete, veramente una grande partecipazione, stiamo lavorando perché tutto va tutto il meglio. Grazie a tutti i comuni che hanno fatto parte di questo grande spettacolo e grazie a Rossella e a Lino Gerace. Grazie. Grazie a tutti che sta lavorando dall'altro palco. Ricordiamolo sì che più avanti c'è l'altro palco con il nostro collega Paolo e Loreto. E' arrivato il carro di Isca su Antonio. Eccoli qua. Mamma mia. E allora questo carro, questo carro dicevo, è ispirato. Sì. Buonanze, 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 buonanze. E' arrivato anche il sindaco, buonasera. Abbiamo un carolino, il sindaco, il giovanissimo sindaco, pirarchi di Isca, insieme a Emma dell'Associazione del Massimo di Giove. Intanto diciamo il carro di cosa si tratta. E' di gioia, sì. Il carro ispirato a Robinson Crossway, come voi potete ben vedere. Il personaggio è inserito dentro una botte in fuga dall'isola in quanto insegna...